Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di It Ends With Us. Si tratta di un romanzo che, allontanandoci dalla catalogazione classica dei libri, quindi sotto specifici generi perché hanno specifiche caratteristiche, diciamo per un lettore medio, è un po' un misto tra un young adult, un romanzo per adulti, sotto certi punti di vista può anche essere un rosa. La nostra protagonista si chiama Lily, si trasferisce a Boston e diciamo che in un'unica giornata succedono davvero tante cose nella sua vita. Prima di tutto nel corso della giornata si trasferisce a Boston, la mattina va al funerale del padre, padre che è sempre stato estremamente violento nei confronti della madre. La sera conosce un ragazzo che si chiama Riley, o Ryle, come volete pronunciarlo, poco importa, che è un neurochirurgo molto affermato e c'è subito un pochino di chimica tra loro, anche se poi in realtà non si scambiano nessun contatto, quindi ipoteticamente non si vedranno mai più. Ovviamente si rincontreranno e avranno una storia. Qui è dove la trama inizia un pochino a intricarsi, quindi seguitemi. Nella vita di Lily diciamo che è come se mancasse un pezzo di un puzzle, cioè Atlas è un ragazzo che lei ha conosciuto quando era giovane, è stato il suo primo amore, si è innamorata perdutamente di lui, lui se n'è andato per vari motivi e quindi loro non si sono mai più rincontrati. Per quanto Lily sia andata avanti ovviamente nella sua vita, comunque ha sempre portato nel cuore Atlas come un bel ricordo. Una volta arrivata a Boston, una volta che sta iniziando a frequentare Riley o Ryle, conosce Atlas, lo riconosce. Il compagno di Lily viene a sapere di questa cosa, viene a sapere di questa loro storia del passato e diventa, più che si va avanti, estremamente geloso ed estremamente violento. Il titolo stesso, I Tends With Us e anche l'aggiunta italiana, siamo noi a dire basta, fa riferimento a tutto quel concetto per il quale noi tendiamo a fare gli stessi errori dei nostri genitori, perché finché non ci rendiamo conto di un pattern generazionale, il cosiddetto trauma generazionale, continuiamo a fare gli stessi errori, se non stessi paralleli. Quindi I Tends With Us fa riferimento proprio al vedere un trauma generazionale passare dalla madre alla figlia, perché la madre finalmente si è liberata, anche la figlia finalmente si è liberata di quel padre violento e adesso se ne è trovato un altro violento. Prima però di entrare in questo discorso, perché è un discorso a cui tengo molto e a cui sono molto sensibile, parliamo un pochino del perché l'ho letto e perché probabilmente lo conoscerete anche voi. Si tratta di un fenomeno gigantesco di TikTok. Credo sia stato il primo vero libro-fenomeno del cosiddetto book talk, cioè quella sezione di TikTok legata alla letteratura, italiano. Ha fatto un successo incredibile e anche nel video dei buoni propositi dell'anno nuovo l'ho citato, però ve lo ridico. Il motivo per cui mi interessava così tanto leggerlo è proprio questa totale distinzione nelle recensioni. Che voi andiate su Goodreads, che voi andiate qui su YouTube, su Instagram, troverete tendenzialmente due opinioni contrastanti. Persone che lo hanno adorato, è un libro stupendo, è importante, è scritto bene, parla bene, ti parla di cose importanti in un modo realistico, concreto, e poi dall'altra parte gente che ti dice no è un libro di merda. Perdonatemi il francesismo, io tendenzialmente queste due distinzioni le ho viste. Sono anche consapevole che l'autrice ha avuto delle controversie, una tra le quali, che mi ha toccato personalmente, è il fatto che l'autrice abbia spinto nella chiusura di Zetalib, Zeta Library, che era un sito gratuito nel quale le persone potevano cercare e scaricare libri gratuitamente. Non voglio adesso perdermi nel discorso, però insomma, ad oggi è impossibile, e lo dico da tecnico informatico, è impossibile garantire una condizione di antipirataggio per qualsiasi contenuto che venga pubblicato online. Anche banalmente, il mio stesso video, una persona può scaricarsi la trascrizione del mio video e metterlo come blog, e nessuno lo scoprirebbe mai. Non si può avere l'antipirataggio, la pirateria esisterà sempre. Bisogna però anche considerare il peso rispetto a ciò che vogliamo fare. Questa libreria online era stracolma di titoli che adesso non sono più in stampa, quindi fisicamente non posso comprarli, nemmeno se volessi. Posso capire e richiedere la rimozione del tuo libro, ma di portare al punto, perché appunto ha creato talmente un caso gigantesco, una gogna mediatica gigantesca, al punto da far chiudere il sito. Sono passati tre mesi, credo, quattro mesi, non ricordo, e ancora è chiuso e non era mai successo prima. Certo, ci sono comunque vie traverse per ottenere quei libri, per accedere al sito, però semplicemente digitare su Google non è più possibile. E quindi, cioè, non mi sa nemmeno tanto simpatica sta sciura. E so che esistono tante controversie perché lei, in diversi titoli, non ero sicura se fosse incluso questo e poi ne parleremo, in diversi titoli che ha scritto romanticizzava elementi molto molto gravi come la violenza di genere, la violenza all'interno di una coppia e addirittura la violenza sessuale. Quindi io parto anche molto, sono partita a leggerlo, molto prevenuta. E c'è da considerarlo nella mia recensione, perché il fatto che, e lo posso dire adesso, mi è piaciuto, tant'è vero che l'ho preso in biblioteca, perché sapevo già che non mi sarebbe piaciuto. Questo era uno dei libri che avrei potuto comprarmi e regalarmi a Natale o al compleanno. Ho scelto di non farlo perché ero convinta non mi sarebbe piaciuto, perché ero convinta che l'avrei insultato, avrei pensato di buttare via i miei soldi, eppure mi è piaciuto, quindi ha un peso importante. Quindi l'insieme di tutte queste critiche, sia al titolo che alla persona, e il fatto che io genuinamente non riuscissi a capire che genere fosse, mi ha incuriosito, ho detto adesso me lo devo leggere perché devo capire cosa sta succedendo. Credo di averlo citato un'altra volta, c'è un server Discord dove io partecipo, scrivo sul gruppo e dico scusatemi ma voi me lo consigliate, uno, due, mi è stato detto che parla di violenza domestica, e mi è stato anche da una persona, e da un'altra persona mi è stato detto che ha delle scene erotiche. Ma è vero? È una mia risposta, mi ha detto sì. Ho detto come cavolo è poi, come può un libro che parla, comunque il suo cummina, anche appunto già dal titolo, rompere il pattern di accettazione della violenza domestica, essere erotico. E in realtà non è così tanto erotico. Vi dico prima che cosa mi è piaciuto, semplicemente perché è un po' più generico. Mi è piaciuta la storia, il modo in cui viene elaborata, anche gli elementi ricorrenti che si trovano, il modo in cui è stata scritta. È una scrittura molto leggera, molto liscia, molto concreta. Ci sono descrizioni ma non tantissime, non sono, il fulcro non sono le descrizioni, ne fareste a meno sempre. Ci sono anche delle parti che sono epistolari, quindi con delle lettere, che in realtà sono lettere che lei non ha mai spedito. Quindi noi leggiamo la lettera, ma in realtà è come leggere un diario. Nonostante ciò sono comunque abbastanza interessanti, anzi molto spesso erano proprio le parti che volevo leggere con più interesse perché volevo ovviamente scoprire cosa è successo prima per rapportarti al punto di adesso. E credo che il tema della violenza domestica sia trattato in modo estremamente realistico. Non entro nei dettagli perché dopo farò una parentesi a parte. Per ora mi limito a dire che io lo trovo molto realistico da quel punto di vista e quella è una delle critiche principali arrivate da altre persone. Un elemento neutro è tendenzialmente che è fatto per giovani adulti, quindi 16-19 anni. Madonna, ma io non sono più un giovane adulto, quindi. Sono un adulto vero? È da un pezzo anche. Vabbè, comunque, tutti quei classici cliché, quello stile di scrittura un po' a mozzichi e bocconi, mi viene da dire, in alcuni momenti era cringe. Cioè io provavo imbarazzo per i personaggi, ma soprattutto per l'autrice che le è venuto in mente di scrivere una roba del genere. Ora direi di passare veramente alle critiche, quindi non in modo generico ma entrando nei dettagli, la prima legata appunto al discorso young adult, perché io non credo che voi abbiate capito esattamente di che cosa io stia parlando. Io ogni volta ho dei segnalibri dove mi segno tutti i vari appunti durante la lettura e qui ho scritto dialoghi imbarazzanti, pagina 12. Allora, ne prendo giusto un piccolo pezzo della conversazione ma l'intera conversazione è imbarazzo, cioè davvero, vi giuro che mi sono sentita io in imbarazzo. Quindi, si stanno conoscendo Lily e Ryle e Lily gli chiede il suo nome. Ryle, dice sorridendo, Ryle Kincaid. Sospiro, rabbugandomi. È un nome magnifico. Perché sembri triste? Perché darei qualunque cosa per avere un nome magnifico? Ma adesso, ma va bene tutto? Ma che aiuto? Vi giuro, mi sento in imbarazzo. Mi sento in imbarazzo ad avervela recitata? Che ansia, no? Cioè, c'è un limite a tutto. Anche gli young adult però non è che sono proprio storditi al massimo. Non tutti i dialoghi sono così. Alcuni pezzi però ci sono e sono davvero imbarazzanti. Quindi se riuscite a sopportare il livello di imbarazzo rimane sotto la soglia di pericolo potreste dargli un'opportunità altrimenti non ve lo consiglio come libro. Parliamo invece del discorso erotico. Quindi effettivamente ha delle scene cioè effettivamente è piccante, croccante? No. Nel senso che ci sono pochissime scene veramente poche per essere così ampio il libro. Molte non ci vengono mostrate c'è l'allusione o comunque diciamo non entra nei dettagli come mi sarei aspettata basandomi su alcune recensioni. C'è della tensione sessuale sì ci sono delle scene sessuali però sono davvero molto molto poche tant'è vero che credo che sia proprio questo la presenza di queste poche scene nemmeno tanto in dettaglio che abbiano poi portato a renderlo un romanzo per adulti. Con la testa da genitore io mi sento di dirvi se vostro figlio vostra figlia vuole leggerlo a 16 anni fateglielo leggere può essere comunque carino tanto fidatevi che le cose erotiche ne vedranno non solo di peggio ma comunque le vedranno anche senza doversi leggere un libro quindi almeno si leggono un libro intorno anche proprio il riferimento appunto al discorso dei dialoghi della scrittura che lo rende estremamente agile anche per un ragazzino una ragazzina voglio parlare un pochino delle critiche online rispetto anche al tema della violenza di genere della violenza domestica io l'ho vissuta su mano da questo punto di vista questo libro è estremamente realistico e per una volta voglio essere cattiva e dirvi che a me non frega un cazzo della vostra opinione della vostra critica nel dire non è realistico se voi non avete mai vissuto un'esperienza del genere perché è molto facile e Lily un altro elemento interessante è che Lily spesso fa proprio questa parte cioè per la prima metà prima che Ryle inizia a diventare violento Lily dà la colpa a sua madre nel senso che dice ma come hai fatto a rimanere con uno così ma come hai fatto ad accettarlo poi inizia ad accettarlo anche lei e vi giuro vi garantisco che anche io non sono cresciuta con un padre che mi picchiava con un padre che picchiava mia madre ma comunque ho accettato cose da parte di quel mio fidanzato che mio padre non ha mai fatto in vita mia e non gli sarebbe nemmeno mai venuto in mente quindi non è il fatto è ancora più un rafforzativo il fatto che il padre di Lily lo facesse a sua madre perché quello che vediamo crescendo ci abituiamo a pensarlo come normale di conseguenza per quanto uno cerchi di andare avanti di guarire da questa mentalità se non vai da uno specialista non guarisci da questa mentalità perché il concetto di resto con lui perché lo amo sicuramente è raro perché la maggior parte delle volte la moglie maltrattata resta col marito per necessità perché ha paura perché è consapevole di essere sola perché il marito l'ha isolata perché non ha finanze non ha possibilità economiche non ha liquidi non ha contanti non ha una carta di credito magari non ha nemmeno un conto in banca questo però non significa che non esistano persone perché io ero una di quelle che rimaneva col suo partner perché è stata talmente tanto indottrinata dal partner stesso da pensare che quello fosse il giusto trattamento che io mi meritavo lui faceva così perché mi amava potete criticare quello che volete di questo libro può non piacervi non volerlo leggere trovarlo come l'ho detto anche io imbarazzante ma da questo punto di vista è estremamente realistico io non trovo che abbia romanticizzato un bel niente io ho rivisto molti molti atteggiamenti che il mio compagno aveva nei miei confronti questo Riley li aveva nei confronti di Lily quindi io accetto qualsiasi critica che voi possiate fare ma questa no dirmi che è stupida no perché non ci siete mai stati in quella situazione non avete la possibilità di dire a da questo punto di vista quindi criticate perché non vi è piaciuto perché avreste preferito un altro tipo di mentalità dentro lì avreste preferito la moglie che è bloccata perché è una situazione più comune va bene ma non ditemi che non è realistico perché lo è ci tengo che sia ben chiaro almeno sulla mia recensione che questo è realistico quindi in fin dei conti si tratta di un romanzo che tratta in un modo molto molto realistico la violenza domestica con alcuni accenni è un romanzo rosa perché inizia un po' come un romanzo rosa è un po' uno young adult soprattutto per i dialoghi e la scrittura non è particolarmente erotico anzi e secondo me è una lettura interessante ripeto può non piacervi ma qualcosa secondo me lo lascia alla fine detto questo fatemi sapere voi che ne pensate se l'avete letto se lo leggerete scusatemi se mi avete visto un pochino più agitatina in questa parte finale del video però appunto ho visto davvero tante critiche e tanti insulti al personaggio di Lily che è un personaggio fittizio ma che può rappresentare me come tante altre persone e a me dà fastidio ovviamente per ovvi motivi che mi si insulti per una cosa che altre persone non hanno vissuto e non sanno com'è quindi scusatemi se mi sono un po' innervosita detto questo fatemi sapere se l'avete letto se lo leggerete se vi è piaciuto o non se l'avete sentito su tiktok sui vari social oppure se ve l'ho fatto scoprire io che sono curiosa e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao Grazie.